Un grande piacere, un grande onore rappresentare oltre che la nazionale come CT ma rappresentare la mia regione in questo momento non semplice. Mi fa molto piacere perché chiaramente essendo nato qua so la bellezza che ha la nostra regione e tutto quello che si può fare, penso che vada veramente fatto il massimo per poter portare più turisti possibili perché è una regione bellissima, quindi bisogna fare le cose per bene per cercare di arrivare a questo.